È importante dare un sostegno soprattutto ai bambini, ai giovani o anche alle famiglie che in un primo momento forse non sanno ancora come affrontare questa tematica, dove sono i limiti, come lo vedono altri soprattutto, per quello dare questo sostegno di consulenza ma poi anche sostegno concreto quando ci sono degli interventi eccetera, questo è molto importante, per questo l'associazione di cuore di bimbo è importante.